Alzate Brianza celebra la festa della Madonna di Rogoredo, l'arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini che da sempre legato ad Alzate e alla sua festività religiosa celebrerà la messa solenne di domani alle 18 dal santuario della Beata Vergine di Rogoredo. I fedeli potranno sentirsi vicini anche a distanza grazie alla diretta televisiva su Espansione TV. La festa della Madonna di Rogoredo è molto antica dice il parroco Don Lodovico Colombo, nei secoli si è sempre celebrata anche nei momenti di epidemia di peste o di conflitti bellici. L'immagine della Madonna spiega è venerata da ben 487 anni. In Maria nostra madre i nostri padri hanno sempre riconosciuto un aiuto e una costante protezione soprattutto in momenti di difficoltà. Lo dicono le cronache e i documenti che conserviamo nell'archivio parrocchiale chiarisce il parroco. La solennità non ha mai subito interruzioni neanche negli anni più bui e a maggior ragione anzi in quei momenti la fede ha avuto modo di rafforzarsi. La devozione alla Madonna di Rogoredo, aggiunge Don Lodovico, è diventata un momento importante di crescita e di unione spirituale per l'intera comunità e per tutta la brianza comasca. La Madonna di Rogoredo conclude dal 2009 anche la patrona della nostra comunità pastorale che si articola in quattro parrocchie. A causa dell'emergenza covid quest'anno non si svolge la fiera secolare e sono saltati anche alcuni appuntamenti religiosi come la benedizione dei bambini e la messa per gli ammalati ma come detto ci sarà un ospite speciale che inviterà ad essere vicini a chi soffre. L'arcivescovo di Milano, ospite per la quarta volta delle celebrazioni religiose alzatesi. L'appuntamento con Monsignor Delpini è domani alle 18, anche a distanza si potrà seguire la messa solenne grazie alla diretta televisiva su Espansione TV, sul sito internet e sulla pagina Facebook dell'emittente.